Sì, sì, ho capito. Sara, devo dirti una cosa. Oddio, quando mi dici così mi metti un po' di ansia. Adesso arrivo. No, no, vai con, stai seduto. Dopo, dopo. Ricordamelo però. Sì, dobbiamo guardare anche i concorsi dopo. Sì. Facciamo una diagonale e cambiamo mano. No. Cosa? Che bravo che cambia la sua. No. Dove la barbara o dove la barbara? No. No. La barbara è scomera. E la mattina? La mattina sì. La mattina sì. E un circolo. No.